Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio dove mi ero in boschetto chi drento chi bene facciamo il piccone di ferro che tanto volevamo o perlomeno volevo senza bastoncini ci mettiamo le frecce ma si ma perché mi dimentico le cose comunque siamo rinchiusi in questo buco ora devo trovare una via d'uscita ragazzi abbiamo perso la maggior parte della roba bene ci riprendiamo questa roba chi e intanto 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 ci riprendiamo anche la fornace allora abbiamo trovato dell'oro delle cose strane proviamo a scendere qua era meglio che non scendevo me lo sento me lo sento schiere creeper madonna non voglio morire ancora basta basta da Luke è tutto ciao a tutti io non gioco più a minecraft basta non scendo più nelle caverne no niente ragazzi non parlo con voi parlo un attimo da solo perché sono incazzato con Luke allora adesso mi rotti i coglioni se io ti dico non uscire da quel buco e ti dico di stare fermo lì perché sei uscito ma io sono uscito perché devo andare a prendere le cose strane con il ferro ho capito ma io ti ho detto di non uscire c'è la roba c'è la gente fuori e lo so Luke però c'è dobbiamo uscire più o poi da quel buco cosa stiamo tutto il giorno lì ho capito Luke però c'è visto che siamo morti alla fine così concluso ho capito Luke però c'è se non non cadevo lì come facevo a raccogliere la roba ho capito ma adesso dimmi come fai a scendere vabbè scendere un attimo vedremo uccidiamo prima questo ragno o perlomeno buttiamolo giù o perlomeno sfondiamolo o perlomeno facciamo qualche cosa mentre loro si picchiano noi scendiamo bene tutta la mia roba tutta la mia roba tutta la mia roba tutta mi ha schivato madonna mi ha preso madonna mi ha preso ma schivato madonna quanti scheletri ragazzi io vi direi che tutta quella roba è persa dai basta mi sono rotto le scatole facciamo finta che abbiamo perso tutta quella roba bene tanto qua abbiamo tre pezzi di ferro ne prendiamo addirittura sei otto poi prendiamo della legna facciamo finta che quella roba è persa allora quando mi aprirà la crafting table faremo così facciamo dei bastoncini facciamo ok mettiamone tre e tre due picconi ok e una spada perfetto ora già siamo più potenti ok e abbiamo questo qua poi abbiamo del carbone non abbiamo del carbone per cui non abbiamo torce però abbiamo del carbone io ho detto che c'era il carbone voi non mi credete prendiamo il carbone facciamo delle torce e ok poi facciamo altre torce e ok poi prendiamo il coso delle api non si sa mai avevo qua e possiamo andare in caverna bene rifacciamo tutto ragazzi perché tanto mi fai uscire dentro fuori casa oh ma dai ok usciamo veloce ah ce l'ho fatta bene ritorniamo il mouse va a cavoli suoi ritorniamo in quella cavolo di caverna senza andare a prendere la mia roba che mi è scomparsa ma prendiamo quella nuova perché adesso mi stanno girando i cosiddetti scatoli per non dire le parolacce poi facciamo così no facciamo così cancelliamo tutte quelle morti tutta questa fila voilà remove back è giusto scendiamo su prendiamo in mano la spada di ferro questa volta per cui adesso vediamo chi l'avrà vinta ah qua c'era il ferro vabbè però io voglio andare a prendere prima quella roba lì strana però avevamo trovato quei blocchi rossi avevamo trovato quei blocchi rossi ma io avevo trovato quei blocchi rossi ma lì c'è la mia roba ma qua c'è la mia roba ma qua c'è tutta la mia roba ma qua c'è tutta la mia roba ma qua oh mamma tre creeper quattro creeper cinque creeper sei creeper bomba ragazzi non so come cavolo muovermi allora mi stanno sparando e abbiamo capito fin qua no c'è uno scheletro bene che noi ci diamo subito con la spada di ferro che brutto quando si lagga vaffanculo a me che carico registro mentre carico i video non devo più farlo allora abbiamo trovato altri blocchi rossi così ce li facciamo bene 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 abbiamo trovato questo blocco rosso strano che non so che roba è pure questa vabbè lo vedremo ragazzi guardate quanta roba che culo che abbiamo ritrovati raccogliamo tutta questa roba strana me li farò rompere due volte i blocchi per via del lag ma scusate l'altro blocco era diverso però e infatti ah il rubino il rubino il rubino ragazzi vi ricordate nella industria craft vecchia serviva solamente per fare gli attrezzi e basta poi si vendeva più che altro nella nella transmutation table guardate adesso invece a cosa serve il rubino si può fare la polvere e si può fare l'energy crystal con il rubino cosa che prima non si poteva si può fare il blocco avete visto servono a molte più cose mentre gli zaffiri gli smeraldi servono ancora di più poi questa roba qui dovrebbe essere copper se non mi sbaglio perfetto risaliamo giù perché avevo visto altra roba ok oh dove cavolo siamo finiti oh questo cos'è questo che cos'è che cos'è ah l'emeraldo lo smeraldo l'emeraldo lo smeraldo non so come cavolo si chiama e si dice comunque è quello vi faccio vedere eccitolo qui emerald oh altro altro no quello è diverso oh ma che cazzo di roba è questa chi mona zitt mona zitt mozart è un cantante ho trovato un musicista no ragazzi sto trovando tutta roba strana che non sapevo che esistesse cioè non voglio dire stupidaginerie però vi dico così allora qua c'è del ferro che noi raccogliamo magari abbiamo un culo e troviamo pure il diamante però a me serve il silver se vi ricordate vi ricordate? ve l'avevo già detto vero? non dite che non ve l'avevo detto perché io ve l'avevo detto e me lo ricordo benissimo madone che volo che le stavo facendo oh altra roba rossa chissà che cavolo serve sta roba rossa ragazzi dopo voglio andare a casa giusto per cuocerla a vedere che cavolo viene fuori guardate quanta ce n'è perché poi si trova a branchi capito? a gruppi grossi tutti in fila 44 in fila con il resto di 3 vabbè rompiamo i blocchi doppia volta per via del lag ok eh ok quello è perso bene qua con il lag andremo a morire già me lo so già me lo so abbiamo della cobblestone abbiamo la grave abbiamo questa qua se mi spingi uno scheletro sono morto ok cos'è quella cosa gialla? oh che cavolo sono finito? ragazzi vedete quella cosa gialla là sopra? adesso vi faccio vedere meglio quella cosa gialla lì non posso romperla manco col piccone di ferro quello lo so ci sono quelli gialli quelli blu se non mi sbaglio che non si possono rompere ma neanche col piccone di ferro e ci vuole non so se il piccone di diamante ma un loro piccone specializzato oh silver 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 ahi chi è? ah no perché sono caduto ed è in ritardo mi ha dato ok silver ecchitelo chi quello che serve a me no questo non è silver sono pirla ragazzi si trovano dei blocchi di silver che quando messi in quella fornace droppa due blocchi due item vabbè ragazzi io ve lo spiego ve lo farò vedere perché è difficile mentre questi qua sono quelli separati perché c'è il load coso lì questo qui è il silver ve l'ho detto che era il silver voi non mi credete? ah il load eccolo qua o load or perfetto siamo a cavallo ragazzi ok abbiamo trovato i limoni di là e i limoni gli oli come faccio ad andare di là? così come faccio a prendere l'oro? così prima prendiamo quelli verdi dai poi andiamo a casa ragazzi poi magari riscendiamo in un secondo momento però io ho paura che guardano il mio video e mi vengono a fottere i materiali maton cosa le trovi la reddiston tanta reddiston pipistrelli non fanno niente non lo sapevo pensavo facevano male che cazzo? madonna che spavento perché mi stavo dietro a spiarmi? perché non mi picchiava? uno zombie curioso no perché comunque laggo troppo ragazzi un pipistrello appeso ma se lo picchio? non mi da niente bene ho picchiato un pipistrello ragazzi allora facciamo così perché io voglio quell'oro assolutamente no sei un figlio di cioccola sei una grandissima testa di cazzo ragno di merda da Luke è tutto ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.